Le persone come noi, che hanno un corpo come noi, negli extraterrestri, in questi UFO, che io prendo poi quando parlo, lo prendo in senso largo, cioè anche delle persone che o sono dentro l'apparecchio, o ma questo è molto molto difficile pensarlo, oppure comandano, ma sono distanze enormi, se si fanno vedere da noi, mica c'è un pianeta che è a mille chilometri da noi, se no a mille chilometri ci sarebbero già arrivati, quindi è molto ragionevole che siano dentro, e quindi sono persone come noi, composte di una parte spirituale, che la chiamiamo anima, di UFO, io non ho mai parlato con un UFO, non ho avuto... Ma che abbiano anche un corpo, devono avere un corpo, e se no sarebbero angeli.